I più attenti avranno riconosciuto Daniele Crescenzo che ha segnato i due gol del Trastevere ed è tornato qua dopo 11 anni. Ora ne hai 30, quando andasti via eri un under tra i più promettenti. Che ricordo hai di Arezzo, Daniele? È una bella emozione comunque. Ho passato un anno un po' turbolento, non lo nego, però comunque sia i ricordi del ragazzo di 18 anni restano e la felicità di vivere un anno fuori casa da giovane. Purtroppo non riuscimmo a vincere il campionato, non andò benissimo, però è una bella emozione. Io ricordo il gol con l'Emitra simulato a Monte San Savino che fece un po' arrabbiare i tifosi di casa. Ricordo qualche gol e tanti giocati. Tu eri uno degli under più promettenti. Tu invece che flash hai di quella stagione? Diciamo che quello è un ricordo abbastanza vivo perché comunque sia creò qualche problema ma anche per andare via dallo stadio. I ricordi più belli sono quelli prima di Natale. La partita mi ricordo che vincemmo qua contro il Casterricone 3-0. C'era tanta speranza. Poi purtroppo prima del Ponte d'Era andò male. Però al di là del calcio giocato ricordo comunque la città e i compagni di squadra di averla vissuta in maniera piena. È una città bella, una tifoseria importante. Peccato non esserci tornato con la maturità giusta. C'era anche speranza in campo in quella stagione che poi si fece male e fu un infortunio forse quasi decisivo. Hai qualche rimpianto per la tua carriera? Perché tu eri in rampa di lancio e poi decidesti di andare via per una scelta personale più che calcisti. Diciamo sì. L'hanno vissuto ma un po' scombussolato. Però il rimpianto più grande purtroppo non avrei avuto la maturità giusta oppure qualcuno che mi ha potuto aiutare nell'interprendere la giusta carriera. Quello sì. Però poi si fanno sbagli, si cresce. I rimpianti nel calcio non si devono portare avanti perché gli anni passano, ce ne sono pochi e bisogna viverli quelli che restano. Sei in contatto con qualcuno dei compagni di allora? Non so, Raso, Martinez o qualcun altro? Più che altro con i più giovani. Ecco, comunque sia si era formato un legame forte con i ragazzi, vivevamo tutti nella stessa palazzina quindi ancora c'è, mi tengo in contatto con Valerio Cucci, Matteo Bozzoni. Sì, diciamo qualche contatto ancora c'è. Ti chiedo un'ultima cosa, insomma, questi due gol sono arrivati in amichevole però segnare qui al comunale è sempre una bella soddisfazione. Sì, no, ma poi ritornare a giocarci insomma è uno stadio importante e finalmente rivediamo insomma l'Arezzo nelle categorie che conta. Quella è un'emozione grande, ecco sì. Tanto, tanto, ripeto, l'impianto più grande purtroppo è non avere avuto la maturità giusta perché col senno di poi è normale chi non vorrebbe giocare qui. Però purtroppo gli anni vanno avanti e come ho detto prima bisogna godersi quelli che c'è. Adesso sono in una società, comunque, è il quarto anno e sono qui a Trastevere, sono felicissimo, è una società importante che ci dà quello che un giocatore vuole per poter far bene e quindi sono felice così, dai. In bocca al lupo. Grazie mille, in bocca al lupo anche a voi.